Scende il caccia dei tuoi di partenza, allora subito andiamo a vedere Cavallin e Cusumano, Cusumano all'interno, Cavallin all'esterno, Cusumano, Cusumano all'interno per il terramaggio Fog e a seguire, subito, Cavallin per quanto riguarda la treta di casa delle unitate comaschi, poi Rocco, Rocco Valtrosio per l'arte sconti gambetto, la colata bella sul 146, si infia E' questo che viene superato, ma anche nella quarta posizione, per la disponibile, per entrare nella finale a Cusumano, Cavallin, croce, D'Ambrosio.